Buongiorno ragazzi oggi sono con la Gretuzza, eccola qui Buongiorno! Ci stiamo già lasciando alle spalle il ricuso delle guide, sono le sette e mezza Proviamo a farci il... Polluce o polluce come si dice? Come si dice! Colle del Brighthorn, ci siamo legati e si punta in direzione Polluce, quello lì In tre secondi si è annuvolato e nevica ragazzi, speriamo che si apra Oggi sono fortunato ragazzi, guardate che guida mi ritrovo, ma vorreste avere una guida così voi? Sotto il polluce! Lì si attacca la Gresta, la Gresta inizia ragazzi E' sicura? Sì Tranquillo che te lo dico! E' sicuro! 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 E' sicuro l'ultimo tratto di Gresta! Un arrivo in vetta al Polluce, che è subito in tavolo. Bravi ragazzi! Grazie uomo! Il panorama dove al vetto del Polluce, 4.090 metri in cilio. Che bello ragazzi! Mi sono fatta la bocca di lungo! Come fate qua Gre! I discount! Qui abbiamo il Custer! La Cresta di Arrino! Che bello ragazzi! Che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Come solo poi! Non turnerezza o vema! M Saucederezza del Denizor! La città è gefuta, per la faccia di avere un filo no non esistamente不用 ris Shinoni e per ora! Versi co는데 fu certo? Chi non? Grazie a tutti. On the way back to Colle del Brayton, l'elicotterino che segna la fine di questa epica gita al Polluce. Yeah! Alla prossima ragazzi!